La Vallo La Vallo è figlia d'arte, figlia di un grande attore che ricordiamo attraverso il cinema italiano e rappresenta non il cinema ma le sue grandi emozioni attraverso i suoi quadri che parlano di famiglia, parlano di quotidiano, parlano delle sue esperienze e lo raccontano in maniera molto chiara. Attraverso questo la parola può andare oltre perché ognuno di noi riusciamo a vivere emozioni più o meno positive ma la cosa più importante è esternarle e tirarle fuori. A che età hai cominciato a dipingere? Ho sempre dipinto fin da piccola, crescendo è diventata una cosa un po' più seria, la necessità di fare qualcosa con più professionalità, più tempo, più dedizione. E' cresciuta in un clima non solo artistico ma anche con la passione dell'arte. Volevo chiedere a un po' di amiche che si occupano di sensibilità e di giornalissimo qualcosa sul tema. Io appena sono entrata ho subito notato questo che mi è piaciuto tantissimo, sono stato tutto il tempo a chiedere chi fosse l'artista però presi dalle tante iniziative e nessuno mi aveva affilato quindi sono felice e onorata di fartelo direttamente adesso e complimenti. effettivamente sembra una ripresa di una scena perché c'è tutto, l'interno e l'esterno, questa è la cosa che mi ha colpito di più, questa capacità di restituzione di interno ed esterno con dettagli, c'è la lettura, c'è il mare, credo che sia una scena anche questa, quasi da film. Salvo, io nelle opere della maestra Vallone ravviso questa dimensione, questa intimità così profonda, così inattingibile come se potessimo essere noi stessi ovunque al medesimo tempo in nessun luogo, ecco c'è una dimensione intima. c'è una frase di Victor Hugo, eramento sempre, che siamo nella storica Milano Argalleri, data diretta che è un polo culturale, di grande pregio, prestigio anche letterario, è una frase di Victor Hugo che tutti noi probabilmente conosciamo. Dice che io ho l'anima, ho tutta l'anima incrinata da brividi di stelle, ecco io provo questo e sento che l'artista prova questo quando dipinge questa scissione infinita di se stessa persa nella tela, ecco. Cristina Cattaneo, della tua parte diciamo meno giornalistica ma più psicologa, come vediamo questi quadri? Ma a me viene in mente Frida Kahlo, guardando questi quadri, la dimensione materiale o niente, però vedo tanto, forse sono io che la proietto, però la vedo in quasi ogni quadro e chiedo se è consapevole o se è voluta oppure... No, no, assolutamente no, ma anche se... no, io cerco di esprimere quello che sento, soprattutto il sentire femminile, infatti l'80% dei miei quadri ci sono delle donne e esprimo quello che sento. Poi chiaramente ci sono dei maestri enormi insomma che apprezzo, sicuramente Frida Kahlo era una persona che è riuscita a esprimere la sua interiorità e io spero di andando avanti di riuscirci sempre, soprattutto a esprimersi, a esprimere quello che senti e con la speranza di comunicarlo, per cui comunichi un'anima un po' a tutti ecco, che uno si può riconoscere, spero, almeno spero. No, no, e poi Frida Kahlo è una grandissima piettrice, quindi... Beh, certo, una delle più... Maddalena, prego. La bellezza di questi quadri, a parer mio, oltre che appunto in queste donne che sono poi protagoniste assolute, sta anche nei colori e nei particolari e nei dettagli, perché ogni colore e ogni dettaglio ha un qualche cosa da raccontare. Grazie, Rona Vallone, ricordando il grande Padro, ricordo Arabella, Arabella. Grazie. 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 Grazie.